Interessai mio padre, ha la mia passione per il volo. Mi fece frequentare il corso pre-militare di volo istituito dal ministro Balbo per creare la coscienza aeronautica in Italia. Avevo 16 anni quando incominciai questo corso di pilotaggio presso la Runa di Napoli su un velivolo Rho 1bis ad ala parasole con pochi strumenti, aveva soltanto il contagiri, il termometro e una bussola magnetica. L'indicatore di velocità era sotto l'ala sinistra ed era un settore metallico graduato da 0 a 130. Poi c'era un'asta metallica che con la velocità relativa indicava la velocità del velivolo. Fu un'esperienza bellissima perché mi accorsi di avere molta sensibilità per il volo. Insomma, l'aria era il mio elemento.